cari amici eccoci tornati a minecraft in compagnia di kiria che salta contenta perché stiamo per andare a trasferirci nella nostra nuova casa che non è ancora stata costruita la nostra nuova casa sarà qui dietro abbiamo fatto un po di pulizia ho disboscato tutto quello proprio che ci ha li ripianto state tranquilli che li ripianto e ripianto anche lui abbiamo vedete qui ora è una specie di grande spiano una schipezza molto più carino di prima queste due cose sono degli orribili cose di betulla odio la betulla ce ne sono ancora le devo distruggere tutte ma odio le betulle e non mi piace come sono fatte poverace allora bla 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 allora qui c'è il mare c'è il l'aghetto l'acqua come vedete la nostra casa sarà su un piano leggermente rialzato sullo stesso livello dei testifiche giusto per non lasciarli da soli così se vogliamo buttarci in acqua abbiamo anche il gusto di farci un pezzo a piedi esatto o anche un bel tuffo essendo un luogo piena come avete visto troviamo qui una bella zona piatta e poi proprio lì dietro l'angolo c'è la neuro nostra quando prima venire a prendere l qui abbiamo una pece di mini cava di di cobblestone il potenziale o a bo ci pensiamo cosa possiamo fare qua a caso a caso non si può cambiare vediamo è come viene potremmo farla qui c'è un c'è il posto per questo si è qua boh gli us dem size se non è use dem allora ma anche un pochino più in qua ma si allora mi sto prendendo un po' di roba per divertirci c'è anche dell'ossidiana qui in giro potremmo farci un portale uno di questi giorni eh lo facciamo poi si arriva tipo fin qui boh così si bella grande a me piacciono le case enormi per perderti solo tu ti stai perdendo la tua propria casa no in casa tua però mi sono persa davvero una volta non lo so boh potrebbe essere qua ma che stai facendo cosa stai dicendo cosa brateri costo sto coso mi dà fastidio senti addio ma perché mi dava fastidio avevo lasciato pensando che potesse non dà fastidio invece la mia smania di grandezza mi fa capire che invece deve essere distrutta ok devo piantare 40 alberi allora sì per rimediare allora la no mamma no ma che stupido questo la di smooth sandstone sì ce l'ho qualcosa prova a vedere come viene dai prova a metto un sì grazie eh proprio dove sto scavando vai prova così mettene tre dai vediamo come viene proprio lì devi stare ok come viene secondo voi sembra carucchia dai non viene male mi piace ora si va a dormire probabilmente eccoci qui tornati nella nostra casa tutto 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 questo muro vai allora inizia intanto a fare ma no che cosa c'entra qui vabbè lascialo va bene dai ci si può allora è inutile scuola dimmi perché questo non lo so come la vuoi fare volevo fare il palimini dimmi dove devo andare io lo faccio ma la casa dall'altro lato di questo muro ma che palle che sei ma ecco capisci anche prima gli ho detto mentre facevamo livellavamo il terreno fai una riga e poi a destra di quello deve essere tutto livellato lei ha detto ok e subito dopo ma non abbiamo abbastanza fai intanto il muro di base su via il muro ma quale il perimetro ah il perimetro mamma mia mamma me lo sa dove sono i bordi del perimetro no già lo messi più o meno magari non è dritto ma che sta dicendo è dritto si a me non ci tocca più niente fai dove devo arrivare con col perimetro fino a quella cobblestone dai ma è troppo lontana ma che è lontana lei diventa una casa bella grande chi sta nel ferito della casa grande sono per piccarci due cesti in croce ma che diventerà una cosa enorme ci faremo anche l'idromassaggio il gabinetto idromassaggio e ci lascio nel gabinetto è un gabinetto idromassaggio ci sta volentieri ci lascio senti è inutile vedi fare il pavimento con la smooth dato che sono tutto uguali sopra no come faccio a fattele capire le cose io niente è peggio di di quello che mi fa non sono gli angoli vuoi fare una schifezza così grande ma è orribile sta casa è troppo grande è orribile perché è troppo grande che te ne fai ma è una casa enorme ma è un giardino enorme non la casa ci facciamo il chiosco in mezzo una bella giardino in mezzo che dici ma che schifo non si vede neanche da fuori ma noi lo vediamo da dentro ma fa schifo ma non so perché è un chioschetto ma fa schifo un chioscolo forse ma è troppo grande che te ne fai su due piani poi ci facciamo un sacco di cose ma che te ne fai ci facciamo il carto per andare da una stanza all'altra cosa te ne fai scusa cosa ci vuoi fare in una casa un sacco di cose ma come vuoi fare una volta che ci ha messo il letto due quadri e uno stendino cosa ci vuoi mettere senti la nostra casa sarà enorme te lo dico perché fanno schifo le case enormi ma perché perché sono brutte io quando le facevo a The Sims le facevo medie perché quelle norme poi ce li perdi ti ricordi la mia casa come era carina e infatti te l'ho distrutta perché faceva schifo l'ho messa alle cose famiglie l'ho eliminata appena ho potuto e l'ho fatta una più bella equilibrata a me sembra carina facciamola leggermente più piccola a me sembra che faccia schifo ma cosa ti serve più grande facciamo una casa più moderata con un bel giardino davanti un bel giardino sul resto tanti alberi intorno e una piccola coltivazione di sostentamento che poi magari troviamo spazio anche per una fattoria va bene va bene dai allora allora riduci anche di là grazie di qua va che bello no via via e va voi uomini con le smane di grandezza avete il cervello non vi dico dove guarda e poi ho anche finito la smooth qui è appunto visce che dicevo eh non farà troppo grande la casa eh è è appassi ci sarà alta di smooth se non l'hai sprecata tutta per ricostruire le case le testifiche a me sta casa così grande mi fa mi fa senso ma che ti fa senso la rimpicciolisco basta ma come no no non mi piace ma no ma non rimpicciolire da quel muro non mi piace niente ma che va bene così basta oltre questo rosa non si va ma cosa che schifo così piccola no no non si va oltre non si va ma è minuscola ma non è minuscola allora facciamo facciamo una casa tua in dirt e poi la casa mia la faccio come la voglio io va bene basta poi si accorcia lui fa una bellissima villa ma non si parla le ville non servono a niente una casa bella cosa che facciamo una casa di cacca come come la metà delle persone no che la chi m'ha tolto il pavimento io ridarmelo certo che te lo ridò basta guarda che ti chillo chilla mi chitto mi chitto dai fa il tipo grossa ma che è bella così è brutta no è brutta ma che è brutta è bruttissima gente scrivete nei commenti chi ha ragione è bruttissima così grande nooo va bene è un pugno in un occhio ma che è un pugno in un occhio lascia la smettila di distruggere la mia casa ma la distruggo la miglioro no guarda che schifo è piccolissima ma cosa è piccolissima ci si pattina nooo ci si pattina qui ma è troppo piccola ma cosa ci vuoi fare dentro al massimo facciamo il piano di sopra ma è brutta e qua che ci si fa il giardino un enorme giardino pieno di bellezze naturali nooo l'allargerò in altri momenti che vi devo dire mentre quando dorme mentre dorme oh ora ha senso ma se lo dici tu beh è quasi quadrata è brutta una casa quasi quadrata vuoi quanto è quadrata ti pensa che c'è chi vive negli ananas no 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 e poi dobbiamo farci anche le stanze magari facciamo una camera da letto un soggiorno ti va di farci le stanze ma certo ma è piccola ma non mi sembra è piccolissima sta stanza ma non mi sembra piccolissima si è una schifezza piccola possiamo aggiungerci le stanze volendo questo potrebbe essere l'ingresso ah questo è solo l'ingresso questo già inizia a piacermi d'accordo va bene se questo è solo l'ingresso sta casa mi piace scherzavo non vedo l'ora di vedere il salone questo è il salone allora no 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 allora quante sono no è troppo piccola farla più grande va benissimo così allora io volevo fare la porta su questo lato qui è troppo piccolo sto lato ma è giusto una porta prende 50 blocchi non si può farla in un muro così vero mmm è tutta questa zona inutile tu sei una zona inutile ci facciamo il giardino ma il giardino c'è tutto questo sprazzo davanti e ci facciamo le siepi ora aggiungisci una camera per gli ospiti che ti amo che brutta cosa ma veramente gente perché guardate che cosa brutta che ci tocca vedere guarda ma cosa la gente non ci seguiva più per vedere una casa così brutta la vuoi più grande ma tu ci perdi tanto tu dove va la porta su questo lato la volevo fare e metticela doppia porta oh guarda che bella che è mi sembra un po' una stupidaggine sto posto allora cominciamo a fare le pare ma è piccolo cosa ci tieni una cosa del genere ma non importa fare le 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 grandi cioè ci metti un ingresso e poi basta la camera da letto il bagno e poi sopra e poi sopra che ne so vuoi farci un altro piano e per forza come mi sposto in rail in un posto così piccolo ma perché ti vuoi spostare il rail per casa no che noioso allora finisci di fare sto pavimento per lo meno e non usare la smooth per favore no quello che mi capita no che è quella del creeper usa quella usa quella normale ma lo so neanche se ce l'ho quella normale si che ce l'hai ti ho dovuto riprendere la sandstone questa si si quante ne hai presa poca e allora ce neanche se ne ho dell'altra e fai in modo di averla dove la vado a prendere? a casa non c'è niente a casa perché hai fatto milioni di bucchi che non c'è niente sono tutto un belire devo riparare devo riparare vengo a casa devo riparare abbiamo riparato 150.000 case e perso un sacco di sandstone come sei qua? una ma che? ma qui la cobblestone non dovrei alzarla di uno lo vuoi fare così la cobblestone? si che senso? vuoi fare il tetto così crostofobico o l'altro solo due non lo vuoi fare un po' più alta? no no voglio fare l'altro due il tetto senza finestra così secondo te? secondo te non è ancora da finire sta casa ti sembra perfetto ti ci muro dentro e vedi come ti diverti non lo so ma io non ci arrivo lassù non ci arrivo dai su via guarda guarda che schifo di casa mi fai fai neanche il pavimento possiamo permetterci davvero gente non so non so se se continuerò la serie non so se varrà la pena perchè qui abbiamo un impiastro che non so perchè ho deciso di invitarlo e quindi non so vediamo a me gli impiastri sono auspicando la guarigione dei malanni ah ecco è per quello che si chiamano impiastri perchè sono appiccicosi e rompiscate ah perfetto ti sei descritto alla perfezione ok io vado a dormire vieni anche tu Sofia ok vieni 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 allora lasciamo questo brobrio al suo decrepimento e fatti male e a tra poco ciao ciao non ti vede bello come il mio eccoci qui in una nuova parte di questa costruzione di questa cosa orribile perchè l'hai messo ma non bastava saltare sul mio dove mettono anche un altro se no non può più salire cioè veramente dai non è possibile non esiste una cosa leggera è messo i gradini di smooth criminal per forza è più carino ok il soffitto più o meno va bene di questa altezza lo soffitto lo facciamo di fa vedere io no in casa ci piove ma che palle sicuramente siamo usciti dal deserto ma vede qual è più carino per un soffitto huk un po' più scuro si huk huk capitano uncino eh 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 è tutta in cobblestone no il tetto lo facciamo di legno non è tetto questo è solo la divisione tra primo e secondo piano secondo piano secondo piano il piano terra è il primo Sofia capiscimi oh mamma mia no non lo voglio il piano di sopra sono più carine le case più piccole ma che più carine senti questa è la casa di partenza numero 2 poi per le tue smaglie di potere noi lo vedremo nelle prossime puntate allora questa schifezza qui va bene ah c'è legno di betulla è meglio che così lo tagli ancora più volentieri si ma fa schifo legno di betulla lo useremo per farci il tavolo ma come non fa schifo poi ci facciamo il tavolo i mobili la televisione il bagno si chi non ha un bel televisione in legno ah però una sai cosa ci serve qui una crafting table la vado a prendere a casa ma fanne una nuova no al vado a prendere lascia quella lì c'è un'altra l'armadio si perchè tu l'unica cosa che ti avevo detto che avevo fatto l'hai rifatta è la cobblestone l'ho rifatta vedi che poteva servire ma che è la cobblestone no che hai capito il suo errore hai detto cobblestone e vabbè volevo dire un'altra cosa va bene tu mi dai conti io non ti do colpi di niente se ne che sogni i sogni sono fastidiosi se ci sei tu sono soprattutto tu ma sempre se fossi un sogno invece sono il tuo più simpatico incubo ma ti amo tanto anch'io ti amo mamma mia gente io vi consiglio sinceramente di dire prendete della dirt fatevi una casetta di 2x2 sarà molto più carina di qualunque cosa ci verrà dopo i consigli di questa testa d'uovo detta Kiria dai dai ho quasi chiuso la casa la la e la ora poi controllo se è tutto simmetrico perchè si la simmetria è fondamentale gente ricordate sta anche venendo sera si e vieni in casa forse perchè te l'ha fatta qui che tu sei l'imago a me si caravieni o sera non state la sentire vi prego non lo sa via se se boh può da si ok oh bello simmetto io ho paura da aprire le finestre qui dietro che potrei vedere cosa sta combinando Kiria ed è l'ultima cosa che vorrei sapere in questo momento che sarà uno scempio non guardate basta aiuto paura paura ah che sto schifo mamma mia cos'è perchè è così grosso deve essere qua perchè ci voglio mettere i cosi i meloni visto che è notte io sarei delle idee di chiudere per il momento e a tra poco ciao